Nell'esercizio di questo video si chiede di studiare il carattere della seguente serie, ovvero della sommatoria per n che va da 1 fino a più infinito di 3n meno radice cubica di 27n alla terza meno 3. Allora, chiamiamo il termine generale della nostra serie, il termine ennesimo, chiamiamo A con n. E quale deve essere l'idea? Allora abbiamo A con n uguale 3n meno radice cubica di 27n alla terza meno 3. Possiamo ad esempio pensare di andare a studiare il carattere della seguente serie utilizzando il criterio del confronto asintotico. Quindi quello che vogliamo capire è come si comporta con n quando n tende a più infinito, soltanto qui abbiamo un problema che A con n è scritto in questo modo, in particolare con questa radice cubica. Non è molto chiaro come si comporta quando n tende a più infinito, quindi la nostra idea è, tra virgolette, di razionalizzare in modo astuto A con n in modo da avere un'espressione più adeguata. E quindi faccio un piccolo recall per questa situazione. Vi ricordo la seguente formula notevole che A al cubo meno B al cubo si può fattorizzare come A meno B per A alla seconda più AB più B alla seconda. Perché vi ricordo proprio questa formuletta? Perché se ora chiamiamo, noi vogliamo toglierci radice cubica di 27n alla terza meno 3, Come facciamo? Se chiamiamo A il termine 3n e chiamiamo B la radice cubica, quindi A con n è proprio il nostro A meno B, se andiamo a moltiplicare per questa espressione, quello che otteniamo è A al cubo meno B al cubo. E qual è il vantaggio? Che essendo B radice cubica di qualcosa, B al cubo, quando eleviamo al cubo, la radice cubica si semplifica e quindi se ne va. Per cui quello che andiamo a fare è proprio razionalizzare. Quindi, quello che facciamo è A con n uguale a 3n meno radice cubica di 27n alla terza meno 3, come ce lo riscriviamo? Ce lo scriviamo come 3n meno radice cubica di 27n alla terza meno 3 e andiamo a moltiplicare e dividere per la stessa quantità. Quale quantità? Questa quantità qui, dove A è uguale a 3n e B è uguale a quella radice cubica. Quindi, moltiplichiamo per A alla seconda, ovvero 9n alla seconda, più AB, quindi 3n che moltiplica radice cubica di 27n alla terza meno 3, più B alla seconda, quindi sarebbe radice cubica di 27n alla terza meno 3 per se stesso, quindi radice cubica di 27n alla terza meno 3 al quadrato, e andiamo a dividere per la stessa quantità. Quindi, 9n alla seconda, più 3n radice cubica di 27n alla terza meno 3, più radice cubica di 27n alla terza meno 3 alla seconda. A questo punto andiamo a svolgere i calcoli, il numeratore, per il numeratore possiamo usare proprio questa formuletta qua, cioè il numeratore uguale a A al cubo meno B al cubo, quindi A è 3n elevato al cubo sarebbe 27n alla terza meno B è radice quadrata di 27n alla terza meno 3 elevato al cubo è semplicemente 27n alla terza meno 3. Tutto diviso il nostro denominatore, quindi 9n alla seconda più 3n radice cubica di 27n alla terza meno 3, più radice cubica di 27n alla terza meno 3 il tutto alla seconda. Semplificiamo quello che si può semplificare, questo 27n alla terza si semplifica con questo 27n alla terza perché c'è un meno, e quindi quello che rimane è meno meno 3, quindi al numeratore rimane 3, e al denominatore rimane 9n alla seconda più 3n radice cubica di 27n alla terza meno 3, più radice cubica di 27n alla terza meno 3 alla seconda. E adesso che ci siamo riscritti a con n ci chiediamo, la nostra domanda iniziale è come si comporta con n quando n tende a più infinito? Beh, vediamo, al numeratore abbiamo una costante che è 3, quindi non fa niente. Al denominatore cosa succede? Qui abbiamo un termine che va come n alla seconda, diciamo a meno di costanti va come 9n alla seconda, ma noi diciamo che va come n alla seconda. Il secondo termine è un prodotto di due termini. Il primo va come n perché ha 3n, il secondo, allora abbiamo la radice cubica di un polinomio di terzo grado. Ora, dentro la radice cubica il termine che vince è questo 27n alla terza, è il termine che vince quando n è da più infinito. Se ne faccio la radice cubica, quello che ottengo è 27, una costante, chi se ne frega, la radice cubica di n alla terza cresce come cresce n, perché la radice cubica di n alla terza è uguale a n, quindi il termine che sta dentro la radice cresce come cresce n, moltiplicato per il termine che sta fuori che anche lui cresce come cresce n, questo qui va come n alla seconda. Andiamo ora all'ultimo termine. Qui abbiamo 27n alla terza meno 3 alla seconda. Se svolgiamo questo binomio, che succede? Otteniamo un polinomio di che grado? Di grado 6, perché 27n alla terza alla seconda sarebbe 27 alla seconda n alla sesta, più il doppio prodotto più 9, e meno il doppio prodotto più 9. Comunque sia, quindi dentro la radice cubica, dentro questa radice cubica, abbiamo qualcosa che cresce come n alla sesta, perché n alla sesta è il termine che vince rispetto a tutti gli altri termini. E radice cubica di n alla sesta va come n alla seconda, quindi radice cubica di 27n alla terza 1 3 tutto alla seconda va come n alla seconda. E quindi, a con n come andrà? Andrà come a meno di costanti, come questa costante diciamo al numeratore, ma non ci interessano le costanti. L'importante è capire in che modo cresce o decresce quando n tende a più infinito, andrà come 1, perché il numeratore è una costante, diviso qualcosa che va come n alla seconda, quindi 1 diviso n alla seconda. Quindi, tutto questo per dire che a con n, quando n tende a più infinito, va come 1 su n alla seconda, e sappiamo che la serie per n uguale a 1 fino a più infinito di 1 su n alla seconda è una serie convergente, questo lo sappiamo dalla teoria. A questo punto possiamo applicare il criterio del confronto asintotico. Quindi, dal criterio del confronto asintotico abbiamo che, poiché a con n, quando n tende a più infinito, va come 1 su n alla seconda, e la serie di 1 su n alla seconda è convergente, allora la serie di chi ha con n, ovvero questa serie qui, la nostra serie di partenza, è una serie convergente. Quindi la nostra conclusione è che la serie che parte da n uguale a 1 fino a più infinito di 3n meno radice cubica di 27n alla terza meno 3 è una serie convergente. E con questo abbiamo concluso l'esercizio. Grazie.